Fiamme nella notte a Capodorlando. Poco dopo la mezzanotte un'auto è stata avvolta dal fuoco sul lungomare Andrea Doria, nelle vicinanze della rotatoria, tra la Via Libertà e il lungomare per San Gregorio, nei pressi del Faro. Un imprenditore del luogo è riuscito a parcheggiare l'auto, una Peugeot 106, dopo aver visto delle scintille che fuoriuscivano dal vano motore. L'uomo ha aiutato la moglie che viaggiava con lui ad uscire dall'abitacolo insieme alla figlioletta di tre anni e sono riusciti a mettersi in salvo. Il mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme, spente definitivamente dai vigili del fuoco del distaccamento di Sant'Agata Militello. Sul posto sono intervenuti anche polizie e carabinieri che hanno interrotto il traffico. Le operazioni di soccorso hanno attirato l'attenzione di una folla di persone in apprezzione, in attesa che l'incendio fosse domato. Sono passati infatti alcuni minuti prima che i vigili del fuoco potessero arrivare, vista la distanza dal distaccamento più vicino, ovvero quello di Sant'Agata Militello. L'istituzione di un'arma dei pompieri a Capodorlando è vista sempre più come una priorità, anche perché la città paladina si trova in un punto stradale privilegiato per raggiungere diversi comuni dell'Interland e Nebroideo.